Il Principe Ferry e Meghan Markle hanno trascorso gran parte di quest'anno lontano dai riflettori, portando a speculazioni su cosa potrebbero pianificare in seguito. Si dice che il Principe Ferry e Meghan Markle stiano cambiando marchio dopo aver appreso che la narrativa del povero me non farà loro guadagnare abbastanza, secondo un editorialista. Scrivendo su The Sun, Jane Moore ha elencato le diverse iterazioni dei Sussex, che sono esistite mentre cercavano di trovare un modo per sostenersi finanziariamente dopo aver lasciato la famiglia reale, ha spiegato come inizialmente si presentassero come amanti perseguitati che fuggirono dal malvagio regno reale, alla ricerca di una vita più felice. Questo prima che passassero a incompreso Ferry, la cui moglie Angelica era la sua roccia dopo che la sua terribile famiglia lo aveva ostracizzato, mentre recentemente si sono concentrati sui loro sforzi filantropici e sul tentativo di salvare il pianeta. La Moore ha sottolineato che il numero di luglio di Rolling Stone, ha pubblicato il titolo Meghan Markle, e il Principe Ferry, sono nell'era del flop, suggerendo che i loro tentativi di affermarsi negli Stati Uniti non stanno funzionando così bene come avevano sperato. Stacey Jones, fondatrice di Hollywood Branded, ha spiegato che la coppia è circondata da poveri Meghan e Ferry e questa non è una piattaforma su cui costruire un marchio. Recentemente il duca e la duchessa sono stati criticati per non aver messo in pratica ciò che predicano dopo aver preso un jet privato da Santa Barbara a Las Vegas, per un concerto di Katy Perry, settimane dopo essere volati privatamente su un'isola esclusiva dei Caraibi, per una mini romantica serata. Rottura. Secondo Lamour, Ferry e Meghan, hanno deciso di abbandonare i costanti segnali di virtù e di abbracciare ciò che abbiamo sempre sospettato che Meghan desiderasse da sempre. Uno stile di vita da celebrità di primordine finanziato da sponsorizzazioni lucrative e favori di miliardari che vogliono essere visti con qualcuno famoso. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.